Eccoci qua ragazzi con il video speciale dalla Games Week Ragazzi vi ringrazio veramente tutti quanti, siete veramente incredibili Vi ringrazio anche per i 450.000 iscritti Quindi godetevi questo speciale anche se c'è un audio un po' strano Però superiamo i 15.000 mi piace per un nuovo video insieme alla crew Vi lascio al video, buona visione Salve a tutti ragazzi e bentornati a MakeShush Sono in una foresta pluviale No non è vero, sono insieme a Brezzo Crew Della foresta amazonica Ovviamente mentre parliamo noi parte la cosa Ragazzi siamo in direzione Brezzo Crew In direzione Games Week Games Week, siamo contro luce e illuminati crew Tra l'altro siamo nell'aeroporto dove insomma la gente pensa sempre male Si malpensa, pensa teo Infatti si chiama malpensa Ma che cazzo le battute di MakeShush Tutti quanti chiamano MakeShush Ragazzi ci hanno seguito Ragazzi sono stato rapito Ero a malpensa a malpensare E' arrivato un... Un brazzo Una patata al sugo E ci hanno preso Tra l'altro ragazzi siamo in un pulmino Insieme a gente sicula del sud Siculissimo Arancia arancini Cannoli 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 e pistole Ci fanno sequestrato anche a voi? No noi siamo in realtà quelli che sequestrano No noi non ci facciamo sequestrare In realtà ci hanno sequestrato loro Guarda che belle labbra rose Ci abbiamo Mi raccontati ti fanno conto se coglione che scambi il terminal 2 con l'1 E non sono stato io E' quella persona che sta... Sta... Tra il sedile e il foggia destra Che ha sbagliato il termine Sta scattando l'ignoranza Mette in vise Comprate il loro libro Mette in vise Mette in vise Siamo dietro il palco del... Game Swing Che ti sei mangiato E' un'insalata russa con le uova Che faceva veramente cagare Era un'insalata che dormiva Taranana Succede Taranana Hai finito di dire vincata? No Tra poco saliremo sul parto Spacchi i fegambani Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E' dal bagno E' un po' di gente che ci aspetta fuori E' dal bagno Regà Fateme andare al bagno Ciao Mike Ciao bello ciao Vedete ragazzi si firmano autografi in bagno Lo dico adesso così loro non saranno Non mi laverò le mani Succede che vengono fatti i regali un po' strani qui alla Games Week Guardate come mio cugino Stormy salimando Una carota giamaicana di cultura rasta Facciamolo insieme La spira è finita vi voglio far vedere quanta gente però è ancora qui per noi Ragazzi siamo arrivati in stanza e da veri ricchi indossiamo la cappadoio perché Stiamo andando nella sauna dell'hotel A fare cose strane A fare cose strane tipo fumare il sigaro E sono solamente l'1.35 di notte Ma la notte è giovane perché ha i soldi Esatto Here comes the money Here we go Dexter ma il sigaro cubano? Ce l'ho qua Buongiorno a tutti ragazzi siamo a fare colazione Guardate Giampi e muri che si mimetizzano nella sala pranzo C'è anche un brazzo Insomma ieri ragazzi abbiamo registrato un qualcosa di epico Ragazzi lo vedrete sul canale di Giampi Peccato che poi il cellulare mi abbia abbandonato e quindi non vedrete mai non scoprirete mai che cosa è successo a cena Ancora una volta ciao ragazzi Ben casino eh Ancora una volta da casino ragazzi Stiamo prendendo un caffè tutti insieme Oh 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 ci vogliono sparare Ci vogliono sparare Vai spara gli spara gli morti in diretta Morti in diretta Ragazzi è indeciso se è meglio la morte Passa in culo da Joker Che è meglio la morte o Joker da chiedere Si questa fiera è finita E quindi ragazzi anche questa Games Week è terminata È stata insomma incredibile Eravate tantissimi Grazie a tutti tra l'altro ragazzi Ho appena superato i 450.000 iscritti Quindi ragazzi emozioni doppie Perché vi ricordo che l'anno scorso Oggi perché alla scorsa Games Week avevamo solamente 80.000 iscritti Quindi c'è ragazzi è qualcosa di clamoroso Di adesso ce ne andiamo a dormire con il mio pigiama proprio fiero Mi metto così a dormire Ma secondo voi sono da solo? Ma che cazzo sta a fare? Ma che è? Un video? È un video Bravo! Vabbè quindi ragazzi Oddio Fammi così va? E quindi ragazzi Io direi che per questo video possa essere tutto Io ringrazio veramente tutti Per queste emozioni incredibili Spero di svegliarmi bene domani mattina E non freddo Eh si e non freddo Caldo ancora Quindi ragazzi vi do appuntamento ai prossimi video Grazie e grazie a tutti Per queste emozioni fantastiche Incredibili veramente Un saluto a tutti a Max Shosha Alla prossima Ciao ragazzi E dai miei capelli E da brazzo Bella Ciao Il bollo ma la bolla Il passerò la passerà Ma tutti quanti amano Mike Shosha Tutti quanti amano Mike Shosha